Stiamo parlando di una delle strutture più importanti a livello nazionale. Ho sentito Marta, me lo devi darti da fare, eh? Forza! Vai Leonardo! Vai! Marta ma che bello questo vestito, non l'avevo mai visto! Così, convinti? Ma perché non te lo metti all'audizione? Ora che sei tu che sogni di fare la modella da grande, mica io! Non ci sono i nostri, non ci sono i nostri, non ci sono i nostri. Grazie a tutti Grazie a tutti